Siamo con Bore a questa edizione dell'EU di Show, senti Lorenzo la prima domanda è d'obbligo, voi siete stati i grandi assenti di questa fiera, dacci le tue motivazioni. Allora sicuramente dopo diversi anni di partecipazione all'EU di anche con un impegno importante da parte nostra quest'anno devo dire a malincuore abbiamo deciso di non essere presenti, la decisione è presto giustificata, oggi l'Italia rappresenta per Homer una parte importante del fatturato ma non più così importante come era agli albori dell'azienda fino a qualche anno fa e per nostra fortuna le esportazioni sono cresciute molto negli ultimi anni e oggi l'export rappresenta di gran lunga la maggior parte del nostro fatturato. Ecco che quindi quest'anno, ripeto a malincuore, abbiamo deciso di investire i soldi che normalmente dedichavamo all'EU di in spese di marchi, di pubblicità, di fiere all'estero. E quindi purtroppo essere presenti dappertutto sulle riviste, in fiera, all'estero diventa pesante per cui ecco che quest'anno abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa. Senti, oggi lo possiamo dire, siamo all'ultimo giorno, comunque questa fiera è stata un successo, questo vi fa pensare comunque per l'anno prossimo di essere presenti perché gli appassionati pescatori insomma vi hanno cercato per tutti questi giorni? Allora, sicuramente la fiera è stata un successo, la cosa mi fa e ci fa moltissimo piacere, vuol dire che comunque il settore è vivo, è dinamico, che c'è interesse e che si è lavorato bene. Naturalmente questo se vuoi accresce da un lato il dispiacere per non essere presenti, però ripeto, siamo molto contenti. Io penso proprio che l'anno prossimo torneremo a essere presenti all'EU di, stiamo già discutendo anche con i nostri competitor, le altre aziende, su come impostare la fiera l'anno prossimo. E quindi ripeto, conto che l'anno prossimo saremo e mi dispiace per tutti i pescatori che ci hanno cercato, cercheremo di raggiungerli in un altro modo. Io ormai da anni faccio delle serate di presentazione di tutte le novità di prodotti in giro per l'Italia, quest'anno proprio per il fatto di non essere venuti all'EU di ne farò ancora di più, cercheremo di raggiungere in tutti i modi i nostri clienti e di essere presenti. Senti, l'anno scorso avete catalizzato la fiera di Roma con le produzioni Omer e quelle nuove Spora e One, quest'anno non essendoci la gente vuole sapere cosa bolle in pentola per il vostro futuro. Allora, di cose in pentola come direi da sempre in Omer ne bollono tante. Siamo usciti con il catalogo 2010 Omer e Omer Accessories con tante novità importanti. Abbiamo tutta una linea di nuove mute molto innovative e molto belle che abbiamo proposto e che abbiamo iniziato a consegnare adesso nei negozi, devo dire con grande soddisfazione. Abbiamo presentato delle pinne in carbonio molto belle, molto performanti, anche quelle stanno riscontendo successo. Abbiamo fatto tutta una linea di nuove aste tecniche che noi denominiamo America, le cosiddette australiane con le pinnette. Presto usciremo col catalogo nuovo Spora Sub dove anche lì ci saranno importantissime novità che sicuramente faranno piacere. E questo è solo quello che è già diciamo stato fatto, anzi ti do una notizia in anteprima assoluta, non lo sanno neanche i nostri negozianti, i nostri clienti, ma stiamo per proporre sul mercato delle novità Omer che sono novità rispetto al catalogo 2010, quindi novità di novità e anche lì ci sono cose molto importanti. Una su tutte, inizieremo fra un mese e mezzo la consegna dei nuovi computer d'apnea MIC1, MIC significa MICO in hawaiano, di cui siamo molto soddisfatti. Anni e anni veramente di test, di lavoro per riuscire a trovare il prodotto giusto, con l'affidabilità giusta. Siamo convinti di esserci riusciti, da aprile saranno disponibili nei negozi a un prezzo molto molto aggressivo. Senti, voi siete entrati sul mercato con un nuovo marchio, quindi con un marchio storico però preso da Omer, nell'anno forse più difficile, perché è stato l'anno della crisi e ci puoi fare un bilancio di questo primo anno di produzione spora? Volentieri. Allora, noi siamo usciti l'anno scorso appunto con il marchio Spora Sub, marchio conosciuto a livello mondiale, marchio storico, uno dei più storici marchi della pesca in apnea. Sicuramente in un momento difficile di mercato, come dicevi te. È anche vero che il nostro progetto partiva da ben prima, quindi siamo arrivati l'anno scorso, ma la decisione di entrare con il marchio Spora Sub è stata una decisione presa decisamente in precedenza. Siamo molto soddisfatti, innanzitutto perché secondo me anche a livello di immagine abbiamo dato l'immagine di un'azienda che in un momento di crisi, quando un po' tutti erano lì che si guardavano intorno e meditavano molto prima di prendere determinate decisioni, noi non solo abbiamo innovato come catalogo Omer, ma siamo addirittura arrivati con un nuovo catalogo. Quindi questo sicuramente ci ha giovato. Ci ha fatto molto piacere poi il fatto che originariamente Omer e Spora Sub erano legate, perché prima che il marchio Spora Sub facesse parte del gruppo Mares era stato collegato a Omer, la proprietà era la stessa. Quindi anche dal punto di vista affettivo per noi è stato un risultato importante. A livello invece di risultati di mercato devo dire che siamo molto contenti, anche se non tutti i prodotti hanno riscosso lo stesso successo, questo è indubbio ed è normale, penso che sia così. Comunque ci sono stati dei prodotti che il mercato ha apprezzato moltissimo, che ci ha riconosciuto a livello di innovazione, di performance, di style, di tutto. E quindi ci ha reso molto soddisfatti e orgogliosi. Ci sono stati altri prodotti dove sicuramente abbiamo da migliorare. Senti, parliamo un attimo di agonismo. In questi giorni qui in fiera si è mormorato tanto perché sono usciti alcuni articoli abbastanza sconcertanti, direi. Qual è la posizione Omer? Investe molto nell'agonismo perché Omer e Spora, perché addirittura avete due squadre agonistiche. Qual è la tua opinione sull'agonismo? Chi ha letto l'articolo conosce la nostra posizione. Noi siamo fermamente e totalmente a favore dell'agonismo. Riteniamo che, come in tutti gli sport, e noi consideriamo che comunque la pesca in apnea sia uno sport, anche se uno sport, se vogliamo, abbastanza tipico, però riteniamo che l'agonismo sia fondamentale. Quindi noi abbiamo sempre investito molto nell'agonismo, molto negli atleti. Come dicevi te, abbiamo due team, uno Omer e uno Spora Sub e continueremo a farlo. Ci batteremo strenuamente a favore dell'agonismo e molto onestamente ho letto anche di tante proposte che vogliono trasformare l'agonismo in qualcosa di più ecologico, con percorsi in cui si spara al bersaglio, eccetera. Io parlo a pescatori in apnea, da cacciatore terrestre aggiungo tanto per aumentare la dose e dico che il nostro sport è confrontarsi con un animale e questo deve essere. Non credo assolutamente che far sparare dei pescatori in apnea a dei bersagli di polistirolo possa sostituire la pesca vera e propria. Senti, voi avete... se vuoi aggiungere... No, nell'articolo si parlava tanto anche di regolamenti, di modifiche, eccetera. Tutte le cose sono migliorabili, però io penso che negli ultimi anni forse si è già cambiato troppo e quindi personalmente ritengo che stravolgere quelle che sono le regole attuali a priori non sia un bene. Poi, per carità, discutiamone, parliamone, essere chiusi nelle proprie posizioni non è mai corretto. Senti, voi come azienda siete l'unica che fa solo prodotti per la pesca in apnea, però molti ricorderanno che Omer aveva iniziato con un catalogo per immersione con le bombole. È una scelta che a posteriori, con l'esperienza che avete oggi, rifareste quella di abbandonare l'Ara e di dedicarmi in toto alla pesca oppure c'è qualche... Allora, ti rispondo raccontando un po' la mia esperienza professionale in Omer. Io sono entrato in Omer 11 anni fa e in quel momento Omer fatturava più con il catalogo ARA, quindi con materiali per le bombole da snorkeling, che non con il materiale per la pesca in apnea. Quindi, se vuoi, lì per lì sembrava impossibile pensare di rinunciare a una parte che era addirittura più grande dell'altra a favore solo della pesca in apnea. Dopo due o tre anni in azienda, io sono stato uno dei promotori, chiaramente insieme alla proprietà, che comunque ha chiaramente il potere decisionale, per abbandonare il settore delle bombole e concentrarsi esclusivamente alla pesca in apnea. Per due motivi. Prima di tutto perché nel mondo dell'ARA per essere delle aziende competitive nel mercato mondiale bisognava avere delle dimensioni tali da poter investire grossissime cifre in ricerca e sviluppo, cosa che nel nostro caso non era. Quindi si rischiava, se vuoi, di concentrare molte risorse in un settore dove comunque avremmo rischiato di rimanere indietro rispetto ai colossi molto più grandi di noi. In secondo luogo, Omer è un'azienda che è nata come attrezzatura di pesca in apnea e ce l'ha nel DNA. In Omer tutti, ma ecco, escludo forse qualche operaio o qualche impiegata, ma siamo tutti appassionatissimi pescatori, ce l'abbiamo nel sangue. Quindi dalla proprietà a me, a tanti collaboratori, amiamo il mare, amiamo la pesca in apnea. E quindi quella era una cosa nostra, una cosa che probabilmente sapevamo fare meglio che non le bombole, che anche lì eravamo molti appassionati, io compreso, ma avevamo meno passione per le bombole. E quindi oggi il fatto di aver preso questa scelta molto difficile, abbandonare l'ARA, concentrarsi sulla pesca, ci ha portato dei grandissimi risultati. Oggi fatturiamo molto di più con la sola pesca di quanto fatturavamo undici anni fa con tutte e due e questo ci ha portato ad avere nel mondo una posizione di leadership incontrastata, oserei dire. E quindi ci fa molto piacere, insomma siamo molto soddisfatti. Senti, l'ultima domanda, mi ricollego proprio a quello che hai detto. In Homer, i vertici sono tutti pescatori, quindi ci sei tu, c'è Marco Ciceri, c'è Marco Bardi, Marco Pisello, insomma tutti appassionati. I test ve li fate da soli? Sì, ma direi più no che sì, nel senso che chiaramente da buon pescatore quando vedo un prototipo in Homer non vedo l'ora di rubarlo all'ufficio tecnico e di andare in acqua a provarlo. Però sono anche perfettamente conscio che non ho le capacità di tester che possono avere atleti che vivono il mare tutti i giorni o quasi. Per cui testiamo personalmente i prodotti ma ci affidiamo molto di più a quelli che sono i nostri team di atleti. Non ti nascondo che oggi quando selezioniamo un atleta per il nostro team, guardiamo chiaramente la capacità di fare risultati, il curriculum agonistico, ma guardiamo molto la capacità della persona di testare i prodotti. Per noi oggi la funzione principale del team non è quella di vincere le gare ma è quella di darci indicazioni sui prodotti e soprattutto di capacità di testaggio dei prodotti prima che questi arrivino sul mercato. Per noi è fondamentale. Senti Lorenzo, noi ti ringraziamo per questa breve intervista, l'appuntamento è al prossimo Eudi, noi ci vedremo sicuramente prima per fare qualcosa insieme, magari di pesca. Grazie molto per essere passato a trovarci. È stato un piacere, grazie a voi e un saluto a tutti gli appassionati pescatori. A presto!